Amici di Rai 1, buongiorno, breve aggiornamento sulle traffico. In primo piano la drammatica situazione in area genovese per il crollo del ponte Polcevera di Genova e chiuso il tratto della 10 che collega Genova Aeroporto alla 7 in entrambe le direzioni. Per coloro che sono diretti da Savona verso Genova o dalla 12 verso Levante Ligure debbano percorrere la 26 di Trafuori e successivamente la 7. Percorso valido anche per chi proviene da Livorno e si dirige verso Savona. Mentre per chi proviene da Milano ed è diretto all'aeroporto oppure al porto di Genova deve uscire a Genova Ovest. Per coloro che dal ponente Ligure si dirigono in direzione della 1 e odorsale adriatica consigliamo di percorrere la 21, la Torino-Brescia, raggiungibile attraverso la 6, la Torino-Savona. Criticità in Molise a seguito del terremoto ed è stata disposta la chiusura della strada statale 647 Fondovalle-Biferno tra l'incrocio della strada provinciale 73 Larino in entrambe le direzioni. Se in azione di un incidente verificatosi circa 30 minuti fa la diramazione per Ravenna, il tratto interessato è quello che va da Ravenna-San Vitale-Bagnacavallo in direzione dell'autostrada Bologna-Taranto. Trattasi di un tamponamento tra due auto e al momento si transita su una sola corsia. Prudenza per chi percorre la 24 perché c'è presenza di nebbia tra Vicovaro e Tagliacozzo. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, darai pubblica utilità, l'augurio di un bellissimo fine settimana e come sempre la linea Valti G1 e uno mattina estate. Guidate con prudenza e buona giornata, arrivederci. Grazie a tutti.